Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Tempo Liesto e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici, code in uscita a Scandici e in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero rallentamenti in entrambe le direzioni per mezzi spargisale in azione tra il valico della Betone e Lama Mocogno. A Firenze per la viabilità cittadina per la posa di un'infrastruttura di telefonia fino al 9 febbraio in piazza Adu a chiusura del marciapiede lato via Fiume e restringimento di carreggiata. Si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Ed è tutto, buon viaggio!